Si stanno formando due grandi blocchi in Serie A, il blocco delle squadre grandi, chiamiamole le grandi, che si giocano l'opportunità di partecipare alle competizioni europee e il blocco delle squadre medio-piccole, che questa opportunità allo Stato non le riguarda ovviamente, poi nel processo e nella storia di ogni club ci possono essere prospettive di crescita per tutti. Le grandi, partecipando alle competizioni europee, partiamo da questo aspetto che è un aspetto fondamentale, percepiscono dei bonus UEFA, quindi chi si qualifica alla Champions League, all'Europa League, alla Conference, percepisce dei bonus e quindi ottiene una serie di risorse. Chi non partecipa alle competizioni europee, come unica possibilità, come unica risorse di cui dispone, dispone dei diritti cosiddetti domestici, quelli che derivano principalmente dalla vendita dei diritti televisivi della Serie A. Questi diritti domestici, come voi sapete, in base alla legge Melandri, questo è un paradosso tutto italiano, anziché essere distribuiti tenendo conto che ci sono squadre che percepiscono già dalla UEFA, vengono invece redistribuiti dando ancora alle grandi la parte più grande di queste risorse. Le piccole che si fanno battaglia per non retrocedere, con poche risorse che provengono dalla legge Melandri, sono costrette a fare ulteriori rinunce o indebitarsi. Rinunce o indebitarsi. Alcune hanno rinunciato, alcune medio-piccole storiche, basta vedere un po' di dati statistici, hanno rinunciato a investire sul vivaio, non voglio fare nomi, ma alcune hanno rinunciato a investire sul vivaio, altre hanno deciso di indebitarsi. L'Unione Sportiva Lecce, per una scelta precisa del sottoscritto, condivisa dai miei soci, sta provando a fare qualcosa di diverso. Lecce non ha più un debito con nessun istituto bancario e come ho già detto sta piano piano, ma stiamo vedendo la luce, estinguendo quelli fatti nel periodo Covid. Siamo ormai prossimi ad arrivare a zero. È una mia fissazione legata al fatto che l'unica opportunità per dare un'appilla importante al club è tenerlo come un gioiello. Se io mi guardo intorno, ma non è per parlarmi addosso, un vero grande progetto di calcio è qui. Se io mi guardo in giro intorno, un vero grande progetto di calcio è qui. Inter, l'Inter, l'Inter, nelle ultime cinque partite ha fatto un punto. L'Inter, nelle ultime cinque partite ha fatto un punto. Potrà accadere, ahimè, avrei sperato di no che Lecce ne faccia uno in sette. Può accadere. Di queste sette partite alcune a me sono piaciute.